Un anno fa il terremoto sulla costa pesarese, il punto su cantieri ristori. Omicidio di Fossombrone, Marchioni dichiarato incapace di intendere e di volere. Nuove direttrici per le carceri di Villa Fastigi e Fossombrone. Nuovi spazi per studenti e creativi, ecco Art Lab. Sport e giovani, un convegno per indagare l'evoluzione della relazione. Buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini. Ben ritrovati a Rossini News, telegiornale di oggi 9 novembre, data che ci ricorda come esattamente 12 mesi fa, il 9 novembre 2022, alle 7.07 di mattina, la costa pesarese, Fanese e Anconetana registrò il terremoto più potente mai avvertito in questo secolo nella nostra zona. Una magnitudo 5.7 che procurò danni ad edifici pubblici e privati e fece partire un iter maturato poi nella richiesta di stato d'emergenza. Ad un anno di distanza dal terremoto vediamo il punto su cantieri e ristori. Erano le 7.07 del 9 novembre 2022. Esattamente un anno fa la costa settentrionale delle Marche tremò con una magnitudo 5.7 registrando il più potente terremoto avvertito nel città di Pesaro e Fano da un secolo a questa parte. L'epicentro fu nel mare Adriatico a circa 31 chilometri dalla costa Fanese. Non ci furono conseguenze per l'incolumità delle persone, ma danni rilevanti ad edifici pubblici e privati. Pesaro stimò danni per oltre 20 milioni di euro, Fano per oltre 30 milioni, Ancona per circa 40 milioni in un conto allungatosi ad altri svariati milioni di euro per il ripristino della rete viaria delle strade provinciali. Le tre città più popolose delle Marche furono comprese in un cratere sismico per il quale il governo ha accettato la richiesta di stato d'emergenza deliberato dal governo lo scorso mese di aprile. Al momento attuale sono stati riconosciuti complessivamente per l'area del cratere 4 milioni e 8 per gli interventi di somma urgenza. Per il comune di Pesaro sono state stanziate risorse pari a 112 mila euro per il teatro Rossini e 52 mila euro circa per il chiostro della Chiesa San Giovanni. Aspettiamo di capire quanto sarà e quale sarà l'importo del secondo stralcio. Le indicazioni che ci arrivano sono di circa 62 milioni per 143 interventi individuati. Lo stato d'emergenza persisterà fino ad aprile 2024, quindi noi poi attendiamo quello che sarà il decreto che verrà emesso appunto dalla Regione rispetto ai 62 milioni complessivi destinati al cratere Pesaro, Fano e Ancona. Per quello che riguarda i privati, ancora non è stato nominato il commissario del Sisma, quindi bisognerà attendere la nomina del commissario per capire quelle che saranno le risorse che il governo vorrà destinare ai privati che hanno subito danni più o meno rilevanti dal Sisma. Quindi siamo fiduciosi, non sappiamo che cifre, quali cifre, quando il governo destinerà le risorse e il primo passo sarà quello di nominare il commissario del Sisma. Lo scorso luglio la comunità di Fossombrone rimase sconvolta in seguito al delirante omicidio di Marina Luzzi uccisa dal cognato Andrea Marchionni all'interno delle mura domestiche. Tre mesi e mezzo dopo il delitto arriva il referto di una perizia psichiatrica che potrebbe spostare Marchionni dalla detenzione in carcere verso una residenza per cure psichiatriche. Correva la mattina del 25 luglio scorso quando, in una villetta bifamiliare di via Pirandello, alle porte di Fossombrone, il 47enne Andrea Marchionni scendeva dalla sua abitazione fino al piano sottostante per uccidere, con un colpo di pistola alla fronte, la cognata Marina Luzzi, 39 anni, mamma di una bambina di due anni e mezzo. Bambina che proprio in quel momento si trovava a pochi chilometri di distanza assieme al papà Enrico, fratello dell'omicida. Assassino che pochi minuti dopo si sarebbe consegnato spontaneamente ai carabinieri di Fossombrone confessando il delitto e portando con sé la sua pistola Beretta regolarmente detenuta con porto d'armi per attività sportiva. Un delitto sconcertante che ieri nel Tribunale di Urbina ha avuto uno sviluppo processuale destinato inevitabilmente a fare discutere, perché la Pubblico Ministero Simonetta Catani ha chiesto il trasferimento di Marchionni dal carcere di Villa Fastigi, dove detenuto con l'accusa di omicidio volontario, ad una REMS, ovvero ad una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per casi psichiatrici. Questo è il pronunciamento in seguito al risultato della perizia psichiatrica che ha rilevato l'incapacità di intendere e di volere al momento dell'omicidio. Perizia che avrebbe delineato un quadro di schizofrenia paranoide e psicosi delirante. Perizia che fu avviata sulla base dello sconnesso interrogatorio post-omicidio in cui Marchionni, confessando il delitto, parlò di un complotto massonico con coinvolgimento della cognata per contagiarlo con le presunte nanotecnologie presenti nel vaccino anti-Covid. Deliri che lo avrebbero indotto a sentirsi perseguitato da Marina Luzzi in una distorta percezione della realtà che lo portò poi a commettere l'omicidio. Ora toccherà alla GIP esprimersi sulla concessione o meno del trasferimento dal carcere alla REMS in considerazione della pericolosità sociale dell'arrestato. Sconcertata dalla decisione della famiglia della vittima nell'apprendere una presunta infermità mentale nei confronti di un soggetto a cui fu rilasciato il porto d'armi non troppo tempo prima. E proprio quello di Marina Luzzi è stato uno dei due femminicidi registrati nelle Marche in questo 2023. Eventi estremi di una violenza di genere che vede in continuo aumento le denunce in tutta la nostra regione. L'omicidio di Marina Luzzi a Fossombrone e di Concetta Marrocco Cerreto Desi rappresentano gli ultimi due femminicidi avvenuti nelle Marche entrambi nel 2023. Punta dell'iceberg di un fenomeno, quello della violenza sulle donne che in regione è in costante crescita come certificato dal rapporto sulla violenza di genere deliberato dalla Giunta questa settimana. Sono state infatti 705 le denunce ricevute dai centri di violenza regionali nel 2022, 42 in più rispetto all'anno prima a conferma di denunce più che raddoppiate nell'arco di 10 anni. Più di 700 denunce, 208 delle quali certificate anche da referto di diagnosi di violenza al pronto soccorso. Di queste, 10 sono risultate minorenni. Fotografia di un fenomeno in cui la provincia di Pesaro Urbino incassa il numero più alto di denunce, ovvero ben 245. Fenomeno in cui in un caso su tre il molestatore, il coniuge o comunque una figura interna all'area domestica è la vittima in tre casi su quattro a un'età compresa tra i 30 e i 60 anni. Dati che continuano a delineare un quadro preoccupante a poco più di due settimane dal 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Entro il 20 di novembre prenderanno servizio presso gli istituti penitenziari di Pesaro Villa Fastigi e di Fossombrone due nuove direttrici. Si tratta di Annalisa Gasparro e Daniela Minelli. Ad annunciarlo è il parlamentare pergolese di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli che fa presente come il governo abbia assunto complessivamente 57 nuovi dirigenti penitenziari per garantire a ogni carcere un direttore titolare e archiviare definitivamente l'infausta stagione dei direttori ad Interim che hanno incrinato la catena del comando con risvolti negativi per la sicurezza. Ed ora cambiamo argomento, andiamo a scoprire un nuovo spazio pesarese dedicato a giovani artisti e studenti. In città c'è un nuovo spazio aperto agli studenti e alla creatività di giovani artisti. Si chiama Artlab, si trova nel quartiere di Muraglia in via Guerini 25 e sarà un nuovo luogo polifunzionale aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Sarà uno spazio polivalente che principalmente ospiterà un co-working dedicato ai creativi, quindi a chi fa arte o utilizza comunque la creatività per lavorare e poi avrà una parte di sala studio dove organizzeremo anche dei corsi legati alla creatività e alle tecniche artistiche ma anche a qualsiasi altro tema intercetteremo nella città e una sala espositiva. Inoltre lo spazio è in espansione, stiamo pensando di utilizzare altri spazi per creare ulteriori servizi come ad esempio una camera oscura, una postazione di serigrafia e una sala posa. Questo ovviamente è un percorso che svilupperemo nel tempo anche con l'aiuto degli artisti che già hanno prenotato i box e verranno a lavorare qui e di tutte le persone che passeranno in questo spazio. Artlab ha al suo interno un aula studio e lavoro comune oltre a quattro studi riservati e provvisti di scrivania, scaffali e connessione wifi. Artlab è un servizio che offre l'associazione Tavolo Studenti e quindi i nostri servizi saranno riservati ai tesserati ma la tessera costa solo 5 euro e quindi per utilizzare lo spazio in generale si chiede di fare questa tessera di un piccolo contributo annuale veramente irrisorio e dopodiché invece per utilizzare i box che sono destinati appunto a chi con la sua arte sta cercando di lavorare c'è un contributo un pochino più alto mensile con cui noi copriamo ovviamente le spese delle bollette dello spazio e della connessione a internet che è offerta ovviamente gratuitamente a cui si offrisce dello spazio. Artlab sarà aperto ufficialmente il 13 novembre dopo una due giorni di inaugurazione di sabato 11 e domenica 12 novembre. Abbiamo coinvolto diversi artisti intercettati nel percorso di costruzione dello spazio che esporranno le loro opere. in tutto sono 17, tutti i giovani del territorio qui della provincia di Pesero Urbino oltre a queste esposizioni ci sarà la proiezione dei lavori di Alma Animatori di Urbino ci saranno delle attività interne ad esempio insieme a Sistema Critico organizzeremo uno speech cocktail dedicato all'arte e alla Cancer Culture. All'interno di Artlab saranno organizzati anche corsi legati ad arte e creatività. Da mercoledì 15 novembre inizieranno tre corsi abbiamo in programma il primo con Guido Brualdi un artista cantautore e fumettista di Pesero per creare il tuo fumetto unico e ripetibile avremo poi un corso di Punch in Idol con me che sono Camilla Cesarini in arte Armadilli di ricamo contemporaneo e avremo un terzo corso di Make Up Effetti di Scena con Laura Maiani che sarà intorno a gennaio-febbraio sono corsi completamente gratuiti con materiali forniti da noi e finanziati dal progetto Chimera. Una luce pubblica migliore per una bolletta più leggera a Fano entra nel vivo il progetto Full LED che vedrà la sostituzione in 830 vie della città di 9200 corpi illuminanti che da sodio ad alta pressione diventeranno a LED di ultima generazione Entro la fine del 2024 infatti la rete pubblica avrà un risparmio di oltre 2 milioni di kilowattora all'anno nel progetto coordinato da Fano e Aset un intervento da 2 milioni e mezzo di euro che consentirà all'amministrazione un risparmio energetico del 43% e una riduzione del 35% sulle bollette per un ritorno nelle casse comunali di circa 400 mila euro L'obiettivo è quello di terminare tutto l'intervento entro l'autunno del 2024 E c'è anche il comune di Tavuglia fra gli enti destinatari del bando della regione Marche relativo alla concessione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale Le risorse della regione andranno a cofinanziare un intervento di realizzazione di un percorso pedonale nella strada che vedete in questa immagine ci sarà un abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza appunto di strada per pozzo Lavori che avranno un costo complessivo di 380 mila euro di cui 228 mila finanziati dalla regione e 152 mila a carico del comune Il percorso pedonale avrà uno sviluppo di 116 metri e una larghezza di 1,70 m Oltre al percorso pedonale l'intervento prevede anche il completamento della messa in sicurezza del tratto di strada sulla SP38 interessato da un movimento franoso E parliamo di spettacoli con la storica rassegna Andar per fiabe dedicata ai più giovani organizzata da Amat che torna da domenica 12 novembre con un programma che avrà il suo avvio al Teatro Comunale di Gradara a partire dalle 17 con lo spettacolo Con viva voce la storia di Ivan e il lupo grigio di Teatro La Baracca Si tratta di una storia che intreccia cavalieri, uccelli di fuoco, cavalli d'oro, lupi e principesse Altro spettacolo invece in scena a Monbaroccio sabato 11 novembre alle 18.45 al Teatro Comunale con Aria Funesta una serie di eventi avversi Uno spettacolo in cui chitarra e voce dell'autore Donato Antonio Telesca restituiranno una prospettiva peculiare delle situazioni che ci affliggono in questi tempi ovvero pandemia, guerre, terremoti, alluvioni e siccità Il Consorzio Sportivo Pesarese che da quest'anno unisce in progetti condivisi le società sportive Torolski Center Episaurum, Young Riders e Moraglia Calcio ha organizzato per sabato 11 novembre un convegno che si trerà a Palazzo Montani Antaldi Il titolo del convegno è Sport e Giovani, evoluzione della relazione 11 novembre, Auditorium Palazzo Montani Antaldi ci sarà questo, secondo me, innovativo convegno ma la mente fervida di Michele Ramagli preparatore atletico anche della Federazione Sportiva Sportorotelistici ha evidenziato come nei periodi dell'adolescenza e della pubertà sono quelli dei momenti in cui bisogna far capire veramente al giovane cosa sia lo sport in questo a Monte c'è stato il bellissimo accadimento in cui tre realtà che hanno a che fare con i giovani come il gruppo sportivo Moraglia come la scuola di ciclismo del Pisaurum e Young Riders si sono trovati a condividere questa modalità quindi di sicuro che lo sport non si fa per sport però quando per dare concretezza a questo pensiero si passa a dare la visione malata della componente dell'agone purtroppo si è sbagliato tutto ecco, si vuole evidenziare questo aspetto quindi di come il giovane possa approcciare lo sport e come possa essere quello un modo per iniziare a creare relazioni con gli altri giovani andando però a dare importanza ad altri aspetti come quello della relazione quindi quello dei social che purtroppo non direi per fortuna, direi più purtroppo diventa malato nel modo di relazionare dei giovani e anche il modo della nutrizione cioè quanto la nutrizione sia un modo dei ragazzi di rispondere o nel quale rifugiarsi ci saranno quindi nutrizionisti ci saranno tecnici dell'alimentazione ci saranno psicologi ci saranno counselor con moderatore per l'appunto quello che è stata la mente fervida che ha ideato questa cosa che vuole essere innovativa Michele Ravagli questo è un convegno dove mette insieme diversi professionisti che ci potranno dare degli spunti giusti anche per quello che può essere un'evoluzione dello sport sappiamo quanto i giovani sono appassionati interessati alla pratica sportiva quindi l'obiettivo è anche magari tenerli lontano da quello che è un'attività virtuale quella dei social ma dargli degli esempi concreti di persone che tutti i giorni si impegnano per la crescita e per il loro futuro e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo però la nostra prima serata che come ogni giovedì è dedicata al basket e all'appuntamento con Insieme a Canestro una puntata davvero da non perdere perché la nostra Elisabetta Ferri avrà come ospite l'allenatore della VL e l'allenatore della Carpegna Prosciutto Basket Petpesero Maurizio Buscaglia con cui affronteremo i temi di questo primo scorcio di stagione lo faremo anche assieme ad un altro ospite ovvero l'opinionista di Sportando Matteo Fattori l'appuntamento è alle 21.20 come sempre con possibilità di interazione in diretta di voi telespettatori e tifosi al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 altra diretta è quella di domattina nella quale vi aspetto come sempre puntuali alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia dal lunedì al sabato si conclude invece qui il notiziario Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e vi ringrazio per averci seguito